Salve a tutti, sono Lentini Giuseppe, ho 50 anni e vengo da Milano. Io avevo un grosso problema riguardo i denti, a causa di un gidente ho perso tutti i denti nel 2012. Girando su internet mi sono trovato un banner e vedendo questo banner sono venuto in Moldavia per fare un controllo. Arrivato in clinica mi sono trovato da subito molto bene. Mi hanno fatto girare tutta la clinica, la clinica è molto pulita, i dottori sono tutti molto gentili e ho trovato una seconda famiglia. Da allora ho iniziato il mio percorso riabilitativo, ho fatto otto impianti nell'arcata inferiore e otto impianti nell'arcata superiore. Mi sono trovato molto bene, è una vera famiglia, tutti molto gentili. C'è molta pulizia e molta curatezza nella clinica. Io da parte mia è stata una bellissima esperienza e non ho nessun rimpianto. Verrei volentieri anche un'altra volta a fare i denti qui da loro. E' stato il turismo dentale, ma è stata per me un'esperienza molto positiva. Per quanto riguarda me lo consiglio a tanti, lo sto consigliando, lo consiglio a tanti miei amici di venire a fare i denti perché sono molto, ma molto professionale. Adesso, dopo circa un anno, ho iniziato il mio percorso di riabilitazione, sono arrivato alla fine. Ho messo su i denti definitivi e mi sono trovato subito, dal primo giorno, molto bene. e non ho nessun rimpensamento su quello che ho fatto perché è come avermi ridato dieci anni in meno nella mia vita. Sembravo un vecchietto, onestamente. Poi è stata una bella esperienza perché anche da una parte ho trovato, ho visitato un altro paese rispetto all'Italia. da un'altra parte ho trovato il cibo molto buono, ho trovato la gente che ti accoglie come da noi nel sud, io sono siciliano, e c'è più o meno la stessa colonienza che si trova al sud dell'Italia. E mi sono trovato molto, ma molto bene. Con questo io vi saluto, un grande abbraccio a tutti, ciao ciao!